È Natale? E a Natale io faccio la lasagna e in mezzo ci metto anche le polpettine, sto finendo proprio, ne abbiamo fatte abbastanza secondo me, quindi va bene così e l'ultima è pronta. Intanto loro si asciugano un po', ma per una buona lasagna ci vuole un ottimo sugo e questo sugo io lo farò su questa strepitosa cucina. La storia è molto semplice, in pratica vedete questa è, naturalmente ci metto una dose generosa di olio, ho già preparato un trito, carota, unte cipolla, unte sedano. Vi dicevo, tanti anni fa io sono andato ad abitare in Umbria, nel casale dove sono andato ad abitare, mentre lo stavamo ristrutturando e quindi stavamo svuotando e sistemando, fuori di casa c'era questa cucina economica che la contadina aveva lasciato lì perché non gliene importava più niente di questa cucina. Io prendo questa stufa economica, la vedo perfetta, chissà da quanti anni è che stava là, però io dal 1995 in poi continuo a cucinarci ed era una nordica. E questa cucina di fatto ha un grosso valore aggiunto, primo non muore mai, secondo ci si cucina perfettamente e la terza cosa non meno importante soprattutto in questo periodo è che scalda e ci puoi mettere la legna, ci puoi mettere la frasca, ci puoi mettere i zeppetti, i zeppettoni, i ciocchi, quello che è. Vedete fuoco, forno, piastra, questa è tecnologicamente molto più avanzata di quella che avevo io, ma io nonostante fosse vecchio stampo riuscivo a gestire bene anche le temperature del forno, della piastrice, bisogna solo impanare, ci vogliono veramente 5 minuti, bisogna solo capirle e in effetti sono, come si dice oggi, molto performanti. Per un buon sugo, oltre che tutto quell'erbaceo che ci abbiamo messo e un po' d'olio, prendiamo un po' di ciccia, la salsicetta precedentemente spellata, un bel pezzo di carne non preziosa di manzo, un po' muscolosa, ma tanto si deve cuocere, quindi non c'è problema, un pezzettino di fine di costa, vedete c'è qualche tenerume che ci fa sì che il sugo venga anche bello corposetto, un pezzetto di pancia e poi naturalmente, suone sta il lardo e questo lo tagliamo subito e ce lo mettiamo, diciamo così, ecco, la coticano, molto molto bene e poi, visto che io ci dormo fra due guanciali, e ne prendiamo, diciamo, due pezzetti, ma facciamo tre via, sia mai detto, lo scotichiamo per ben da sotto, con la cotica, non buttatela perché questa cotica qui è preziosissima, ce la possiamo anche mettere dentro, adesso la mettiamo qui, strittazziamo subito il guancialetto, non lo fate troppo piccolo perché dopo se no non lo trovate più, è bello sentirtelo in bocca dopo quando si mangia, no? E lo mettiamo lì, poi, un po' dell'alto, sempre la listarelle, questo tanto si squaglierà, quindi fatelo un po' grossolano perché non crea disturbi, è sempre meglio questo che il glutamato monosodico, no? Beh, molto bene, la salpiccetta, un po' sfracagnata, e poi andiamo per tenacia, questo è un po' più tenace come tipo di carne, quindi ce lo mettiamo, un po' più piccino magari, perché, insomma, adesso voglio dire, no? Là! E anche lei è pronta! Ah, lì! Poi, un po' di polpa di manzo, sempre a pezzettini, Allora, adesso noi abbiamo visto che la legna si stava un po' calmando, quindi adesso io ho avvenuto questo per rosolare bene, ci metterò due pezzetti, così mi si riavviva e il rosolare sarà più vivace, che è quello che a noi serve, là! Ok, e adesso per ultimo, ma non per questo meno importante, un po' di bella pancia di maiale lo facciamo a listarelle ne facciamo, diciamo, un paio ecco qui questa ce la buttiamo tanto caso mai che dopo la tagliamo, no? Poi facciamo così così e così questa più piccina che si deve disfare a questo punto vieni qui anche tu molto molto bene abbiamo sistemato il tutto aggiungiamo naturalmente un po' di sale grosso ci sgrattugiamo un po' di pepe e gli diamo una cosiddetta smucinatina propiziatoria smucinando il freddo qui è da un po' il rosolo e quindi adesso noi abbiamo una bella ravvivata prendiamo un paio di bei pezzi di questa bella legnazza e una e due la chiudo vedete? il tiraggio interno e tutto quello che serve fa sì che lei si apre la mente al top si riavviva immediatamente e tutto quanto funziona nel frattempo con questa cosa rosola e la possiamo secondo me anche spostare un po' mettiamo dobbiamo friggere le polpettine e quindi per avere una bella temperatura ideale apriamo qui e ci mettiamo la padella molto molto bene ecco qui adesso 5 minuti che l'olio prenda il suo che io intanto vado avanti con il sughetto l'olio la temperatura e friggiamo le polpette eh suadentemente le adagiamo dentro allora inizialmente quello che io avevo provato approcciandomi a una situazione di questo genere era il concetto della complicazione in realtà non è vero cioè io veramente 5 minuti e capisci tutto come funziona e soprattutto ragazzi fa caldo cioè riscalda veramente metri cubi di spazi queste me le tengo da parte e le metteremo dopo e ci vediamo quando il sugo è pronto e ci vorranno poco poco due ore e mezza tre quindi ci vediamo fra due ore e mezza tre e vi faccio vedere tutto il resto il zucchetto è perfetta molto molto bene vedete che il coccio con la ghisa della stufa ha cotto perfettamente cioè la stufa economica ha questo vantaggio il calore è sempre sempre regolare non c'è accendere gli da quel tono giusto e soprattutto una decoltura lente inesorabili guardate si cuoce perfettamente e questo sugo è perfetto soprattutto per quello che dobbiamo fare quindi bando alle ciance 4 dita alle stacco un po' di burrazio e imburro la teglia poi foglie di lasagna sfoglia ne mettiamo le prime due vedete un po' più alta e in mezzo ce ne mettiamo un'altra perché perché dopo vi faccio vedere ecco qui là dategli una bella incalcatina molto molto bene e facciamo uno stratrello di sugo e voilà lo sapete che già sto avendo uno squaglio di tonzilla ve lo dico proprio sinceramente quindi adesso scusate questa la appoggio qui questa la metto qui prendo la mozzarella e la sfracagno con le manine così vieni qui oh va messa in dosi generose poi un po' di ricotta poi un esaltatore di sapidità naturale parmigiano reggiano meglio 30 mesi spolveratina e poi adagiamo suadentemente le polpettine le mettiamo così come ci dice no a porzione perché poi qualcuno se la deve trovare in bocca sta polpetta no la copriamo li 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 molto benissimo bella incalcatina ecco che il sugo venga su molto molto bene ricominciamo da capo ve la faccio vedere è finita tanto io ci faccio il concetto è lo stesso farò tre strati e poi ci vediamo ho concluso la lasagna ho ripiegato le due elette ho fatto l'ultimo strato ci ho messo un po' di pangaltato qualche fiocchetto di burro è vero è tutto l'ultimo strato controlliamo il forno molto importante è arrivato la temperatura chiudo adesso la fiamma farà questo giro invece fa tutto il giro del forno così la lasagna si cuocerà perfettamente vado a infornare la lasagna in questo meraviglioso forno guardate quel fornetto che ho a casa mia che c'ha gli anni tira fuori dei coscetti di maiale rosolati alla perfezione voi immaginate che cosa può fare questo che è il top della gamma strepitoso adesso apro ah questa la togliamo e la appoggiamo momentaneamente qui questa la infiliamo sotto ale una mezz'oretta 40 minuti ci vorranno tra 40 minuti la lasagna è cotta e quindi la assaggeremo no? non mi trovate molto natalizi bene e adesso faremo un test farò una soletta perché voglio vedere com'è anche dentro suona bene là ora estendo stata appena sfornata praticamente avrà una temperatura pari a 500 gradi Fahrenheit anzi 200 gradi Fahrenheit ecco appunto però noi possiamo fare una cosetta un po' laida ci freghiamo la polpettina vedete la mozzarella è filante molto molto bene un attimo perché scotta abbiate pazienza ve lo dico prima buon Natale perché se dopo un bustino non riesco più a parlare fa anche rima coppa ragazzi è semplicemente voglio sentire però come era venuta un attimo la pasta allora atto primo questo forno ha cotto magnificamente viene qui altro secondo avete visto come ha bruscato bene la parte superiore è tutto un gioco di legna della semplicità della tradizione come fate a fare questa cosa qui in un orrendo forno guardate il fuoco non dà senso di calore non dà senso di bellezza di 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 calma ecco noi ci stiamo facendo prendere un attimino dalla libidina del del tempo che corre queste sono situazioni da cose serie calme tranquille intanto facciamo il testo è semplicemente tripitosa indulgio guarda mi si è capitato un pezzetto di ricotta signori e signori buon natale a tutti ricordatevi che il tempo è prezioso e va usato bene e certe cose lo fanno durare meglio in forma più suodente buon natale buon appetito